Oggi inauguriamo il tour dei mercati, siamo venuti al mercato di Via Andrea Doria. Per noi è importante questa attività, è il centro produttivo di Roma, vogliamo assolutamente valorizzarla e rilanciarla perché qui le persone si incontrano e fanno attività produttiva, fanno commercio. Noi qui acquistiamo materie di scarto che si possono recuperare, diciamo che diamo l'incentivo per fare la buona raccolta differenziata. È una ditta privata, quindi assicuro che tutto quello che le persone, tante che comunque hanno la volontà di portare le cose qua da noi, sono sicuri che noi le prendiamo, le sistemiamo, le portiamo in un impianto e le riprendiamo. Ci hanno costretto a fare le rade, non sapevamo dove hanno appiato i soldi se no ci levano la licenza, però non c'abbiamo nessuno, cioè praticamente noi dobbiamo dare, però in cambio non c'hanno niente. Qua, in questi posti qua, tutte le mattine escono i topi. In particolare questo mercato rappresenta un esempio di cosa non deve essere. Qui il privato ha costruito con un project financing privilegiando gli interessi privati, quindi costruendo il parcheggio e gli uffici che ovviamente ha messo immediatamente a reddito e lasciando per ultimo l'interesse pubblico, quindi ad esempio le attività di asilo nido, ludoteca e biblioteca che dovevano essere realizzate sulla terrazza, quelle non sono praticamente mai partite. Questo è quello che la politica ha prodotto fino adesso, dobbiamo cambiare tutto.